Dopo la dolorosa eliminazione ai rigori in Champions League, immediata possibilità di rifarsi per il Real di Murigno, che ha a sua disposizione il primo match point per aggiudicarsi la Liga. Se il Barcellona, scosso dalle dimissioni di Guardiola, perdesse con Raio Vallecano e il Real superasse il Siviglia al Bernabeu, i Blancos sarebbero matematicamente campioni di Spagna. Anche se le due partite finissero con un pareggio, il titolo delle merenghe se sarebbe praticamente cosa fatta. A parte lo scontro infinito tra le grandi di Spagna, la lotta per l'Europa sta arrivando al momento decisivo. Partita di cartello della 35esima giornata di Liga BBVA e lo scontro tra Valencia e il sorprendente Malaga. Il Levante se la vedrà col Granada, mentre le presche finaliste di Europa League Athletic Bilbao e Atletico Madrid se la vedranno con Saragoza e Real Betis. Se la Casablanca è un passo dal titolo e il Valencia è certo di un posto Champions, il Malaga è ancora impegnato nella lotta all'arma bianca per i posti Europa League. A contendere i posti alla squadra andalusa ci sono ben quattro squadre, Siviglia, Espagnol, Getafe e Osasuna.